Con un colore neutro prodotto dalla mescolanza di ocra gialla, nero e poco bianco e con un pennello di vaio della serie 100 della Tintoretto, metto in evidenza le parti in ombra del viso, compresi sopracciglia, baffi e barba. Ombreggio con una tonalità molto diluita e trasparente, sfumando sulle zone più luminose. Grazie a tutti. Sempre con lo stesso colore rinforzo sfumando l'ombra nelle zone più scure. Scurisco la barba e mi segno i suoi confini inferiori. Ripasso più volte sulla zona dell'occhio mettendo in evidenza l'iride. Passo velatura anche sui capelli. Ripasso più volte sul viso e soprattutto sulla barba finché non ottengo il risultato desiderato. ripasso più volte sul direttore interwan,miyor lo stesso colore che regalze. Bene. Grazie a tutti